napoli studio medico dottor adriano santorelli chirurgo plastico buonasera dottore buonasera a tutti allora dottore ci parlerà della mastoplastica additiva da un argomento a noi molto conosciuto molto noto però noi ci illustrerà come esegue la visita specialistica e come fa soprattutto alcune proiezioni di quello che potrebbe ottenere che potrà ottenere una paziente grazie al suo intervento dottore e l'avete ritenuta da lavoro quindi in divisa di lavoro sì diciamo che sono appena uscito dalla sala operatoria io mi reputo come sarri cioè che va in campo con la tuta quindi anch'io è un nostro lavoro molto concettuale nella fase pre però dopodiché diventa un lavoro molto manuale motivo per cui non mi metto vergogna di mostrarmi in sala questi sono i nostri indumenti di lavoro e quindi poi invece le cravate le giacche ci riconserviamo per i meeting per i meeting e per i congressi ok e poi i miti che congresso a cui lei è molto avviso anche all'estero giusto lei so che ha fatto delle presentazioni note per alcune associazioni americane questo è diciamo uno dei miei dei miei avanti il fatto di poter andare a parlare all'estero per la mastoplastica additiva in quanto è proprio il mio intervento preferito tutte queste mie presentazioni alla fine sono state raccolte in una pubblicazione che è avvenuta per l'isaps international society of aesthetic plastic surgery che è una rivista che si chiama aesthetic plastic surgery dove vengono raccolte appunto i dati più interessanti sui metodi di lavoro e quindi ho avuto l'onore insieme ai miei collaboratori di poter avere il mio nome su questa rivista dove sono stati appunto presentati i nostri lavori che per essere presentati su questa rivista devono essere accettati ovviamente da vari reviewer quindi hanno passato tutto questo livello e finalmente è uscito questo la pubblicazione ma questa rivista è una rivista nota tra i suoi colleghi americani no è una rivista che l'editore è americano però è nota in tutto il mondo perché questa società è la società più numerosa di chirurghi estetici e non è americana è internazionale internazionale quindi lei porta la bandiera italiana in questa rivista ci sono chirurghi molto più famosi e bravi di me assolutamente d'altro canto io nel mio piccolo sto cercando pian piano di crescere in questo ambiente che ovviamente c'è bisogno di tanti anni non farsi notare cioè non di una pubblicazione c'è bisogno di decine di pubblicazioni ma diciamo siamo sulla strada giusta fantastico complimenti e mi faccio io sto vedendo nello schermo vedo una foto e mi diceva che lei ha questo programma che permette alle pazienti di vedere effettivamente quando vengono la visita e dicono dottore io vorrei rifarmi il seno lei è in grado di farle vedere direttamente la proiezione come se fosse una foto sì perché spesso dei pazienti vengono con la foto di una minca piuttosto che di un'attrice famosa il problema è che nessun seno uguale perché la punti di partenza è sempre diverso questo è l'unico ma che la regolatura è molto importante assolutamente questo è l'unico macchinario che è proprio medical device cioè valore medico legale questo punto quindi una foto del pre che ci dice la paziente da che punto parte in questo caso possiamo vedere che la paziente che ha un seno davvero molto molto piccolo e possiamo vedere nelle varie proiezioni a questo punto prima di tutto ci fa una valutazione ci può far vedere tutte quelle che sono le misurazioni le proporzioni e a questo punto su queste misurazioni io posso fare un approccio come chiamo tailored ovvero di sartoria cioè precisamente qual è l'impianto giusto per la mammella senza andare a alterare questi questi valori che ci valuta pure il eventuale differenza come vedete tra un volume e l'altro in questo caso questa paziente ha solo 9 10 g in più di questa mammella quindi è praticamente simmetrico però in altri casi possiamo trovare delle differenze maggiori quindi la macchina fa tutto e questa è la parte di programmazione poi c'è la parte di progettazione dove io posso addirittura andare a selezionare l'impianto facciamo diciamo un impianto abbastanza esagerato e andiamo a valutare come viene tale impianto e vediamo che come per magia il seno comincia a crescere andiamo prima di tutto a posizionare quindi normalmente noi andiamo a posizionare gli impianti leggermente più in basso quindi facciamo anche un risultato più credibile quindi quello che normalmente avviene in chirurgia e a questo punto andiamo a vedere se abbiamo avuto il risultato sperato e vediamo che pian piano stiamo prendendo una forma e vediamo in tutte le proiezioni quindi ovviamente noi alla paziente possiamo finalmente vedere quale sarà il risultato finale e ovviamente vedete come man mano le proiezioni cambiano fino ad avere una forma ma man mano noi lo possiamo costruire come vogliamo nel momento che abbiamo deciso fissiamo questa immagine e sarà quella che porteremo in sala operatoria e cercheremo di raggiungere molte volte la raggiungiamo molte volte addirittura la superiamo perché ovviamente questa è una simulazione ma noi riusciamo a fare anche certe volte qualcosa in più un risultato più naturale e più bello perfetto ma se per questo la paziente fosse troppo grande allora noi proviamo una protesi più piccola e lei facilmente può decidere in sala operatoria questi diventano gli strumenti come si può dire del mestiere dove a questo approccio meccanizzato si assolto un vecchio centimetro e un plicometro che ci consente di prendere le misure al millimetro tutto viene riportato su questa scheda e dove alla fine ogni paziente avrà le sue valutazioni cosa molto importante a me piace tutto programmare prima e quindi la paziente le viene fornita oltre a un reggiseno su queste misure piuttosto che tutti i servizi che possiamo offrire anche una cartellina alla quale appunto la paziente avrà tutti quanti le indicazioni pre e post operatore in maniera tale che senza presa dalla emotività la paziente possa con calma studiare le settimane precedenti e sapere cosa l'aspetta e sapere cosa l'aspetta fino addirittura alla gestione post operatore anche loro già sanno quali saranno le trattamenti di cicatrici che devono avere e questo è uno degli approcci che io ho rubato tra virgolette negli Stati Uniti dal mio mentore che è il dottor Biladans uno dei chirurghi plastici più famosi al mondo per quanto riguarda il breast e che mi ha dato appunto l'idea di mettere questo approccio anche in Italia Dottore, se abbiamo detto tutto riguardo al suo approccio per la mastoplastica? Se al secondo me sì, rimane ovviamente il consiglio di affidarsi a chirurghi specialisti perché sappiamo che è una materia che possono fare varie specialità ma coloro che hanno fatto la formazione sono gli specialisti in chirurgia plastici, costruttiva ed estetica che vengono definiti anche quindi chirurghi estetici quindi questo è un monito alle pazienti di andarsi a informare bene qual è il loro medico di riferimento a cui vanno a fare le visite perché non sempre coloro che sono i più famosi, i più noti, i più social di contro hanno un percorso di formazione adeguato Bene, come sempre raccomandiamo di andare solo dai professionisti cercate tra cui l'infoestetica e tra cui già anche il dottor Santorelli e a presto con un altro video di inpoestetica Arrivederci